Oh, ma come stai facendo? Cosa è fatta? Cosa è fatta? Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video Io sono Molly e oggi farò uno scherzo alla mia ragazza Reby Vi ricordate alcuni video fa che avevamo fatto la piscina piena di Coca Cola? Bene, oggi la Reby sta facendo il bagnetto Guardate, guardate la zona Tutto bene Reby? Ok, non ci sente, non ci sente Perfetto No, no, non ti ha chiamato nessuno Lei a breve farà di nuovo il bagno E io di soppiatto le butterò dentro la piscina piena di Coca Cola Tutte le Mentos e chissà che esplosione in me se ci sarà Voi mi raccomando lasciate subito un grandissimo like a questo scherzo E iniziamo Ok, mettiamole tutte qua dentro ragazzi Metterò tutte le Mentos qua dentro Iniziamo, iniziamo Forza, forza Sarà uno scherzo super Mi raccomando voi super like almeno 5.000 mi piace a questo super scherzo Guardate ci sono anche le Mentos colorate Oh mamma, sarà un'esplosione d'arcobalero Perfetto, guardate quante sono Sono un sacco, io adesso ne assaggio una perché Mmm, buone quelle colorate Guardate, sono un sacco, io adesso mi butterò lì e gliele butterò tutte dentro la piscina appena entrerà Ok, mentre mi mangio la Mentos adesso la spiamo Ma cosa sta facendo? Ma che cavolo? Sta giocando Ah, è entrata Ma che cosa sta facendo? Ma è impazzita, gli ha dato, gli ha dato alla testa quella piscina piena di Coca Cola Ma quanto si mette ragazzi? Due ore? Ecco, 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 si sta buttando dentro Si sta buttando dentro, ok? Guardate Ok, si è messo dentro Ok, perfetto, adesso corro e vado a buttargli tutte le Mentos lì Ok, vai, vai, andiamo, forza Go, oh my god Oh, mia, cosa stai facendo? Cosa hai scontato? Cosa hai scontato? Ma cosa stai facendo? Oh mio mio Ma no, mi ha iniziato a spingere tutto Ma cosa c'è? Non è successo niente Eh, non è successo niente Ma perché non hanno fritto? Nelle mie gambe si sentiva tutto Ah, allora sentivi che frissava Sì, che sentivo Ma cosa c'hai messo? Cosa è questa roba? Le Mentos Ma c'hai messo le Mentos nella piscina di Coca Cola Ma tu sei pazzo, mi volevi uccidere qui dentro No, ma io pensavo che succedesse chissà cosa Adesso sai cosa pensavi? Non pensavi per i miei peglietti Perché io ho letto un nuovo video Beh, ragazzi, per questo scherzo Forse è riuscito un pochino È riuscito No, non mi è piaciuto proprio per niente Dal momento che io mi stavo rilasciando E tu mi hai buttato le caramelle Lasciate un like se volete magari vedere la piscina di Fanta O la piscina di Tè al Limone In un altro video Basta Dalla mia moglie è tutto Ci vediamo al prossimo video E consigliatemi uno scherzo per Molly Ciao 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 Grazie a tutti.